Buonasera a tutti e benvenuti, stiamo per iniziare questa serata nella frazione di Savelli Vinorcia, grazie all'intesa che c'è stata tra le varie prologue tra Cuglia Nostra ed altre associazioni del Comune che hanno voluto accogliere il progetto che la Regione dell'Umbria un anno fa è inteso inserire in Umbando e siamo stati da quelli che l'hanno vinto, siamo riusciti ad organizzare molte attività sul territorio del Comune di Norcia, il progetto è finanziato con fondi statali dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, quindi siamo anche qui per ringraziare la stessa Regione che ci ha dato questa opportunità. Stasera proseguiamo con le attività finanziate, con una serata sociale, ci sarà da mangiare per tutti e ci sarà intrattenimento musicale. Grazie a tutti per essere benvenuti e ci vediamo anche la settimana prossima. Buon appetito a tutti quanti, se non state mangiando andiamo tutti in aria a tempo con le mani insieme a noi, e vai così ragazzi! Siamo un po' muscoli stasera, è proprio vino no? E vai Sameli! Avevamo cinque anni, correvamo sui cavalli, io e lei mi comproviare, è la mia Buonasera, mi conosco di tutti! Ohhhh! Vai vai Sameli! Questa sera per voi! Ohhhh! La slegna voce! Ohhhh! Ohhhh! La tasca! In! Ohhhh! 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 Grazie a tutti